Anche quest'anno Union Camere Piemonte ha sintetizzato in un unico indice i numerosi tasselli che concorrono a misurare il livello di internazionalizzazione della regione, con l'obiettivo di verificarne l'evoluzione nel tempo e di effettuare confronti territoriali con altre realtà regionali di riferimento. Questo indice piemontese ha manifestato una dinamica positiva, con una crescita complessiva del 4% rispetto all'anno precedente. Il Piemonte conferma quindi ancora una volta la sua vocazione all'internazionalizzazione, mostrando un'apertura verso l'estero superiore alla media italiana. A dispetto delle difficoltà congiunturali degli ultimi anni, la regione a noi vicina ha infatti accresciuto la sua capacità di attrarre capitale sia umano sia economico, con un incremento degli investimenti diretti esteri e della presenza di studenti stranieri nei suoi quattro atenei. Le politiche di internazionalizzazione messe in campo dagli attori regionali e dal sistema camerale in questi anni continuano quindi a dare i loro frutti, a vantaggio delle imprese e del territorio nel suo complesso, ha commentato Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere Piemonte. Il Piemonte si conferma locomotiva d'Italia anche sul fronte dell'export, cresciuto dell'8,7% nei primi nove mesi del 2015, a testimonianza della competitività del made in Piemonte sui mercati esteri e della necessità di continuare a tutelare e valorizzare le produzioni con misure ad hoc. Per quel che riguarda il turismo, settore che può essere elemento di paragone con quanto sta avvenendo in Liguria, in Piemonte nonostante la crescita del numero di turisti complessivamente arrivati, è apparso in leggera flessione il peso delle presenze di turisti stranieri sui flussi turistici totali, una tendenza che quindi accomuna le due realtà territoriali, volte sempre di più ad un turismo mordi e fuggi.